Ciao a tutti! Faccio questo video perché sono appena tornata dalle vacanze, in particolare da Londra E' stata una vacanza che mi ha totalmente entusiasmato, quindi vorrei insomma ancora con qui la mia valigia E' la metafora dei miei ricordi, farvi un piccolo trailer di quello che è stato Torniamo a Londra per un attimo If you have any questions, just Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale